buongiorno siamo oggi in compagnia del professor tiziano treu per presentare il suo ultimo libro che si chiama welfare aziendale migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti esce con le edizioni ipsoa e adesso cerchiamo un po di farci raccontare che cosa dice e soprattutto che legame c'è tra questo libro e le esperienze che si vanno facendo in italia intanto la prima domanda che vuol dire welfare aziendale è un insieme di misure che le aziende possono prendere ma anche i territori comunque le aziende soprattutto per dare ai dipendenti dei benefici dei provvedimenti che riguardano la sanità le pensioni il rapporto con la famiglia con la scuola integrative questa misura rispetto al welfare pubblico che tutti conosciamo che sappiamo fa fatica funzionare si sta molto diffondendo questo welfare aziendale ecco ci fa il nome di qualche azienda di qualche esperienza più significativa beh insomma originariamente c'erano delle esperienze diciamo di aziende illuminate che so da la marzotto all'olivetti poi più più avanti la ferrero queste si sono moltiplicate e ormai direi che i contratti aziendali soprattutto ma anche iniziative unilaterali sono a decine e riguardano prevalentemente grandi aziende che sono da l'enia luxotti che è stato un caso particolarmente significativo nel quale da quattro anni appunto quelli storici ma insomma tanti altri no chi alla ferrari e gli aeroporti di milano direi di tutti i settori che hanno detto invece di fare quando si fanno gli accordi integrativi una erogazione in denaro che è legata alla produttività per questo il sottotitolo produttività ma anche benessere invece di dare in tutto in parte di dare cash si offrono ai dipendenti servizi che vengono incontro a dei bisogni fondamentali che non sono soddisfatti dal welfare pubblico. Ma quindi è una forma di nuova di filantropia o una nuova forma di scambio tra padroni e dipendenti? Vi ricordo che una volta ho fatto una domanda, una mezza gaffe con il CEO di Luxottica dicendo ma questa è una forma come moderna del vecchio filantropismo, no ho detto no qui noi facciamo questi investimenti perché vogliamo che la gente stia meglio e ci aspettiamo che la gente nel clima migliore e con questo incentivo produca di più e infatti Luxottica dopo 4 anni di benefits che ha dato ai suoi dipendenti ha avuto dei risultati che hanno confermato questa diagnosi. Ecco poi vediamo voce per voce ma quindi la diffusione del welfare aziendale può creare i presupposti per una partecipazione diversa in azienda e tra l'altro se non sbaglio lei aveva messo in piedi un'ipotesi addirittura di nuove norme sulla partecipazione, che legame c'è e a che punto siamo? Beh la partecipazione si può fare in tanti modi, noi in Germania hanno cominciato a fare la presenza dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di vigilanza, però quella che conta anche o soprattutto è che la gente nelle giornate normali di lavoro si senta accudita, quindi ci sia un modo di dire la propria nell'organizzazione del lavoro, nei tempi e anche di vedere che il loro impegno poi si traduce in una partecipazione ai risultati che possono essere partecipazione in denaro oppure in questo caso in servizio, ormai in Europa è una cosa comune e sta diventando comune anche da noi. Ecco e il disegno di legge? Il disegno di legge è uno dei casi in cui però quello è ancora lì fermo perché doveva essere approvato dallo scorso governo, mi risulta che il nuovo ministro riprenderà il tema, però vedi le esperienze vanno prima della legge, io sono di questa idea che se le esperienze aprono la strada la legge viene più facile e non rovescio, io mi auguro comunque che ci sia anche questa normativa. Ecco vediamo nel concreto, welfare aziendale per quanto riguarda la sanità, le aziende che cosa hanno concesso ai dipendenti? Cioè il concesso non va benissimo perché è uno scambio. Hanno negoziato allora. Possono anche essere unilaterali queste cose ma si aspetta che funzioni e ci sia un ritorno. Beh la sanità integrativa ormai è tra le più diffuse perché questa è cominciata da molti anni, oltre alla sanità di base ci sono ormai quasi 10 milioni di lavoratori in Italia che hanno qualcosa di più, che può essere una cassa aziendale, un gruppo di aziende, delle assicurazioni che danno delle posi e c'è di tutto, dalle cose più preziose, le cure dentali che sono carissime, fino invece alle cose più semplici ma per esempio che portano via molto tempo, i check periodici medici in azienda, questa è una cosa che fa bene alla prevenzione una delle malattie e uno se deve andare a fare le code per farsi gli esami del sangue e chissà quanto tempo perde. Quindi avere un sistema aziendale organizzato fa bene alla salute e fa perdere meno tempo. Quindi questo è diffusissimo ormai. E la famiglia? Perché stiamo parlando di istituti che possono essere usufruiti non solo dal singolo dipendente ma anche dai suoi familiari. Ci fa qualche caso? Sì anche questo siccome di famiglia si parla tanto però si fa poco, la famiglia deve fare welfare proprio, si dice che il modello italiano è un welfare scaricato sulla famiglia. Molte aziende, per esempio Luxottica ha cominciato guardando soprattutto in certi territori dove c'è una presenza della comunità locale, delle famiglie molto vicine all'azienda, ha detto beh bisogna fare qualcosa. Allora dal carrello della spesa che in un momento di difficoltà per molte famiglie è un aiuto perché uno prende dei beni controllati a prezzo molto favorevole fino all'aiuto per i figli. Se uno ha un figlio piccolo allora si integra all'asilo o addirittura si paga una parte della retta. Le mamme dove ci sono molte donne con bambini piccoli dicono che oltre all'asilo è importante avere la possibilità di una babysitter veloce quando un bambino o le maestre si ammalano e quindi ci sono dei buchi nella cura dei figli, questo è diffusissimo, si sta diffondendo molto la cura degli anziani perché ormai quasi tutte le famiglie hanno, magari non tutti i bambini speriamo di più, e anziani da curare e allora anche lì assistenza, questo costa molto ma è un punto importantissimo. La famiglia ormai deve essere presa in carico anche da queste forme. Beh ma una rete di servizi molto estesa, come viene gestita poi anche da un punto di vista organizzativo? Eh sì, questa è una domanda giusta evidentemente, se l'azienda è grande come Luxottica, come le grandi banche possono fare in proprio molte cose, tutte le casse sanitarie delle banche, banca intesa, unicredito eccetera sono gestite in proprio, fanno una grande convenzione con un'assicurazione e va così, Luxottica lo stesso, si è addirittura convenzionata con tutte le co-op, i grandi magazzini nelle zone dove opera. Se ci sono invece aziende che non lo possono fare da solo, lì occorre avere, e c'è ormai una expertise, uno che sceglie quelli che, i cosiddetti provider, quelli che sono in grado e si specializzano nel trovare l'asilo giusto, vpc per sceglierle bene, insomma c'è una rete che si sta specializzando in questo. Oltretutto migliora anche la qualità di queste forme di assistenza, perché noi non possiamo continuare ad andare avanti a 1.600.000 badanti, come Dario Di Vico diceva recentemente, e magari poco professionalizzate, poco valutate, questo è anche un modo per migliorare la qualità dell'assistenza. I sindacati hanno accettato totalmente questa nuova filosofia o all'inizio hanno avuto delle pregiudiziali ideologiche? Già la domanda fa capire che ce ne intendiamo, in effetti all'inizio come spesso capita dice no ma io meglio pochi maledetti subito i soldi del premio di produzione, allora spieghiamo che se tu dai 1.000 Euro in premio te ne mangiano metà tra le tasse, se li dai in servizi, quasi tutti questi servizi hanno degli incentivi per cui tu in realtà con 1.000 Euro ne dai molti di più oltre a dare cose che sono utili e quindi i sindacati si sono cominciati a persuadere e ormai insomma gli accordi si moltiplichano. Un'ultima domanda, il diffondersi di queste pratiche sul breve è sicuramente vantaggioso, ma non è che poi mette in secondo piano le esigenze di riforma del primo welfare di quello di tutti noi? Non è una distrazione rispetto all'obiettivo che un paese moderno deve darsi? Ma questo era uno dei punti che il sindacato sollevava sempre, però attenzione, intanto per il welfare pubblico è già molto che riesca a reggere e non sarà certo qualche cosa in più come sono queste che lo mette in difficoltà. Qui stiamo parlando di cose che riguardano un di più, cioè bisogni molto personalizzati, mirati che il welfare non può coprire mai. Guardi, io cito sempre il caso della Svezia che è un paese notoriamente con un welfare pubblico molto ricco, ciò nonostante lì il welfare aziendale è assolutamente molto diffuso e nessuno teme che i due vadano in contraddizione. Perfetto, grazie. Grazie a Tiziano Treu. Ricordo il libro che è il welfare aziendale dell'editrice Y. Grazie.